Io sono nato in Gambia il 6 giugno 2001, non siamo ricchi, ma ci divertiamo un sacco. Ho scelto, quindi era l'unica scelta che avevo deciso di partire. Sono partito, il viaggio è stato lungo e dura. Partevamo con il pullman da paese a paese, l'avevo fatto fino a Libia e il viaggio è durato 3 mesi. Poi quando ho aspettato lì, quando è arrivato il momento, siamo andati al mare per partire. Poi quando siamo partiti con la gomma, dopo due ore, due ore e mezzo circa, è arrivata una nave grande, quelle che salvano le persone. Eravamo tutti felici perché speravamo, avevamo la speranza di avere una vita migliore. Cercheremo di portarti alla Roma. Io ho detto, cosa è Roma? Mi fa, sì è Roma. La Roma la conoscevo anche quando stavo in Gambia. Quindi quando incontrate altri rifugiati, ricordatevi della mia storia. Ricordatevi che non siamo così diversi. La felicità è Roma si è in Polì.